Silvanian Family, il felice diario di Freya! Ciao, sono Freya! Eh? Sì! Che cosa? Oh, che seccatura! Magari potessi capire ciò che dici! Senti chi parla! Grazie tante! Allora, che cosa posso fare oggi? Giocare a calcio! Bella idea, davvero! Ma oggi è il mio giorno libero, ho voglia di fare qualche disegno! Io invece ho voglia di passare la giornata all'aria aperta, magari leggendo un bel libro! Mi sembra un'ottima idea! Io vorrei andare al lago, che ne dite? Non un altro passo! Oggi è il giorno del mese in cui bisogna pulire la casa! Oh! Oh! Che ingiustizia! È una bellissima giornata! Perché dovrei starmene rinchiusa in casa? Non capisco! Finito! Il pavimento è pulito! Freya, smettila di blaterare! Pensa a finire le faccende! Io non sto affatto blaterando! Freya, anch'io ho finito di fare le faccende! Vado a leggere il mio libro in giardino adesso, va bene? Eh? Anche tu, Krem! Sì! Ci vediamo! Ah, perché hanno finito tutti così in fretta? Ah, finalmente ho finito! Adesso posso fare quello che voglio per tutta la giornata! Bravissima, Freya! Posso chiederti di fare un altro paio di cose? Ok! Chiudi la finestra! Ok! Spegni le luci! Ok! Ora tienimi la borsa! Ok, come vuoi! Tengo io la tua borsa! Puoi stare tranquilla? Sei davvero gentile! Ma cosa... Esco a fare una passeggiata con i piccoli! Avevo bisogno che qualcuno mi tenesse la borsa per un po'! Ah, ecco! Ma io sarei dovuta uscire a giocare! Wow! Ciao, come va? Questo non è giusto! I neonati possono riposarsi tutto il giorno! Non hanno mai niente da fare! Caspita, quanto li invidio! Beati loro! Sapete che vi dico? Voglio essere una neonata! Anzi no! Io lo diventerò! Ho deciso! Si comincia! Ma che bambina grande! Ehi, Freya! Freya, hai già fatto i compiti! Sapevo che dovevi ancora farli! Non posso giocare se non finisco prima tutti i compiti! Qualcuno può aiutarmi! Vorrei solamente che qualcuno potesse aiutarmi con i compiti! Nient'altro! Vorrei che qualcuno... Eh? Non c'è nessuno! Oh, caspita! Che succede, bambini? Perché state piangendo? Sono io, Leira! Che cosa ho fatto? Anche Freya sta piangendo! Ma cosa stai facendo, Freya? Non è facile come sembra! Freya dice di essere una neonata! Ottima idea, Freya! Hai capito tutto! Sei un vero genio! Anche io voglio diventare un neonato adesso! Smettitela! Ah, accipicchia! Che cosa rilassante! Essere piccoli è il massimo! Guarda che bella quella farfalla! È rarissima! Oh, hai ragione! È bellissima! Aspettami, farfallina! Fermi! I neonati non parlano, ragazzi! Ecco, Leira! Forse... Sei una neonata, Freya! I neonati non parlano! Giusto! A quanto pare devo parlarle come farebbe una neonata! Che succede? Leira! È una bellissima giornata, vero? Eh? Io vorrei fare un pisolino adesso! Puoi prendermi una coperta, per favore? State cercando di dirmi che volete giocare con me! Non è vero, piccoli? Sì! Philip, Flora, Fauna! A che cosa state pensando adesso? Sembra che i neonati stiano molto bene! Che succede? Sono diventata una bambina! Sai, mio padre ha detto la stessa cosa! Philip! Sì! Flora! E tutti gli altri bambini! Ha ragione, ha ragione! Perché non vince sempre! Eh? Chi sei tu? Che faccia? Eh, ecco, io sono... Freya! Freya? Sì! No, tu non sei Freya! Freya è molto più grande! Beh, adesso sono diventata piccola come voi! E poi Freya è davvero simpatica! Simpatica? Riesce a estrarre delle farfalle dal suo cappello! E prepara del pane che ha un sapore molto strano! Oh, strano! Forse volevi dire delizioso! E poi Freya è una vera forza! Ha ragione! Freya non si arrende mai nella vita! È piuttosto lenta a finire i compiti e le faccende, certo! Ma alla fine riesce sempre a farli senza mai mollare! Caspita! Non sapevo che la pensaste così, bambini! E poi Freya gioca sempre insieme a noi! Le vogliamo molto bene! Anch'io voglio giocare con Freya adesso! Anch'io! Ma Freya non è qui, purtroppo! Dov'è Freya? È sparita! Ehi, aspettate! Io sono qui, non mi vedete! Sono qui davanti a voi! Sono qui davanti a voi! Ehi! Basta piangere! Basta piangere! Freya! Freya! Sveglia! Freya! Quella voce... Mi sono addormentata! Era un sogno! Sei finalmente sveglia! Ehi! Sono qui! Che succede? Ah, caspita! Hanno smesso di piangere non appena ti hanno vista! Stavano piangendo fino a qualche istante fa! Dimmi un po', Freya! Hai finito di comportarti da neonata? Sì! Io sono la loro sorella maggiore! Freya, hai finito i compiti prima di disegnare? Sì, li ho già finiti! Sei stata più veloce del solito oggi, Freya! Bravissima! Non capisco... Chi è quella ragazza che hai disegnato? È un segreto! Bambini! Che cosa ne dite? Di giocare insieme anche domani! Bambini! Chi è la ragazza che hai disegnato? Grazie a tutti.